Scienze, lettere, arti, economia e disimpegno di pubbliche cariche, ma anche attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. Sono loro i 40 cittadini del Barese ai quali nelle scorse ore sono state conferite le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, concessi con decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno scorso, la consegna dei diplomi insolitamente nei saloni della Camera di Commercio del Capoluogo, con l'abbraccio dei tanti familiari e amici presenti. È una grandissima gratificazione morale e veramente è una cosa emozionante per il senso di dovere verso lo Stato e verso quello che è la nostra società fondamentalmente. È stata veramente una bellissima emozione ricevere questo riconoscimento, non vi nascondo che provo tanta tanta emozione e niente, sono contento, lo dedico alla mia famiglia. È certamente un'onorificenza come lo è per tutti, mi fa molta emozione, lo dedico sicuramente ai miei genitori, a mia mamma che va verso i 95 anni, a mio papà che non c'è più da tanti anni e che ha fatto la bruttissima ma importante esperienza della prigioniera in un campo di concentramento, quindi lo dedico a mio papà.